È un periodo di serate in maschera, cosa devo dirvi in me, Chouchou? Mentre mi preparo, mi è venuto in mente di parlarvi di un film enigmatico di Stanley Kubrick del 1999 che lui mai vedrà proiettato perché morirà proprio alla fine delle riprese, Eyes Wide Shut. Cosa significa il titolo? Je suis française, c'est vrai, ma non mi è passata indifferente la figura retorica idiomatica. Eyes vuol dire occhi wide spalancati, shut, chiusi. Bien mes amis, parliamo di Kubrick, di uno che ha sempre raccontato sguardi nascosti, tabù, sempre al limite del vaneggiamento. Ma lo simuro Eyes Wide Shut ci parla di vita e di morte, di morte nella vita più precisamente, di occhi sbarati, di individui persi in metropoli fredde, di sentimenti inesplosi e certo di tabù, troppi, tutti quelli che una società riesce bene a cuscire addosso ai propri componenti. Bill e Alice sono proprio due componenti simbolo di una società consumista. Vivono nella capitale del mondo, New York, sono belli, adulti ma ancora giovani, sono benestanti. Completano il loro ruolo all'interno della canonica istituzione matrimoniale. Qualcosa di semplice e di ben confezionato, una vera al dito, desideri irrepressi, ma la consapevolezza che la monogamia sia giusta, sia socialmente corretta. Sono schecchi? Eyes wide shut? Ma poi ci viene il dubbio che uno solo dei due lo sia. Alice è pronta a guardare e non lo fa per sfizio? La scena del portafogli sembra svelarcelo. Lui non lo trova, ma lei sa dov'è, mentre è fintamente persa dentro allo specchio a guardare la bellezza della sua nudità. Il film è stato pensato da Kubrick fin dal 1968, dopo la lettura del romanzo di Arthur Schnitzler Traum Novelle, che si traduce in doppio sogno. Non vi viene in mente che shut eyes vuol dire sogno, e in questo modo si restabilisce con una serie di giochi di parole un punto di contatto con il titolo del romanzo. Il film, oui, è onirico, metafisico, svela le debolezze dell'uomo e suo essere a continuamento bambino, con occhi chiusi di fronte al mondo, curioso e pronto al pericolo, perché in fondo ancora è sempre inconsapevole. E chi non è un po' inconsapevole nei sogni? L'uomo moderno è un po' il dottor Bill Hartford, questo Tom Cruise ha la voce più fredda, un dottor Shackle che non riesce mai a trasformarsi in Mr. Hyde. Gli va male in quel vortice di simbolismi traballanti che culminano poi nella benda del vecchio amico Nick Nightingale. Insomma, mes amici, in Kubrick e in questo film la vostra comtesse vede una sorta di punto di non ritorno. Anche nella realtà Cruise e la Kidman si sono separati poco dopo. Di certo vale la pena guardarlo e tentare di percepirne tutti gli enigmi. Ma adesso vado alla festa, mes amici. Fate i bravi che nel frattempo io vi prometto che mi divertirò per voi. A bientot, mes chuchù. Grazie. Grazie. Grazie.